Essere farmacisti significa far parte di una comunità e se la nostra luce resta accesa anche di notte, è per ricordarti che siamo sempre al tuo fianco. Farmacia Carino, con te, dal 1917. Allenati alla pace, è il messaggio dato dall'azione cattolica dei ragazzi a Minuri in occasione della festa diocesana svolta domenica scorsa. Era davvero il caso, dati questi tempi, di dare questo messaggio. Così come gli sportivi si esercitano per migliorare le prestazioni sportive, è necessario fare un esercizio per mettere al bando sentimenti bellicosi. L'evento è stato organizzato anche con la collaborazione del Comitato Paralimpico, per cui i ragazzi chiamati a partecipare all'evento hanno ascoltato anche una testimonianza di un'atleta paralimpica e hanno anche seguito il messaggio del CSI volto all'inclusione sociale. Spazio alla Marcia della Pace, partita dalla Basilica di Santa Trofimena e proseguita sul lungomare. Il CSI Comitato di Cavarettireni ha avuto il compito di organizzare dei giochi, ma i dettagli ci vengono sviscerati da Pasquale Scarlino. Io direi che è andata veramente alla grande, perché grazie al diocesi di Cava, naturalmente, al suo eccellenza Monsignor Horacio Serricelli e tutte le varie parrocchie, hanno veramente messo in campo una bella manifestazione. Circa 150 ragazzi hanno dato vita prima in mattinata a due momenti dove ci sono state due testimonianze. Una di Alfonso Beatrice del Centro Sportivo Italiano e l'altra di Landi dell'Atletica Parolimpica, e di questo dobbiamo ringraziare anche il Presidente Mellone, che ha dato un po' ai ragazzi le sue risultanze di come è diventata atleta, anche attraverso, purtroppo, ad essere ipovedente e quindi è riuscita a far sì che sia diventata un'atleta parolimpica che è arrivata terza ai campionati mondiali appena svolte in Portogallo. Poi c'è stata la Santa Messa di Sua Eccellenza e nel pomeriggio è entrato in campo il Centro Sportivo Italiano con tutto il suo staff per far divertire non solo i ragazzi ma anche i genitori in due ore e mezza di attività all'interno della tendostruttura messa a disposizione dal Comune di Minori.